È un piacere, un giorno speciale per Gabice Mare perché comunque rappresenta l'inaugurazione, seppur in un periodo di limitazioni Covid, di una mostra importante, una mostra permanente che presenterà alla città di Gabice Mare dei quadri, più che altro sono delle foto di Steve McCary, quindi conosciamo la caratura di Steve McCary come uno dei migliori fotografi a livello mondiale, che attraverso la fondazione Bescherat ci ha dato la possibilità di poter esporre in modo permanente queste foto, questi scatti a Gabice Mare. Quando ci è stata proposta questa iniziativa mi è persa un'opportunità incredibile perché noi a scuola dobbiamo continuamente cercare di sviluppare nei nostri bambini il senso del rispetto verso la diversità e l'empatia verso tutti. E questa è una possibilità unica perché con questi scatti bellissimi il fotografo Steve McCary vuole farci conoscere quelle che sono le diverse realtà, le diverse etnie di tutto il mondo. Vuole proprio far nascere in ciascuno di noi non solo il rispetto ma anche la condivisione di quelli che sono i sentimenti degli altri popoli, di persone che si trovano a una grande distanza da noi, che vivono realtà completamente diverse. È un progetto che vorrebbe sensibilizzare quello che sarà la popolazione di questo mondo di domani attraverso delle sollicitazioni che possono essere l'empatia e lo sguardo verso il nostro prossimo e in futuro poi con altre fotografie che verranno comunque sempre date dalla fondazione, anche altre argomentazioni molto importanti tipo il cambiamento climatico, la natura, la sensibilizzazione verso quello che è il nostro pianeta e la nostra vita, insomma, futura perché si sta un po' perdendo di vista quello che sono le cose più importanti, cioè salvaguardare quello che abbiamo. Le immagini sono già state esposte, io ho già consultato tutti i miei docenti, abbiamo fatto una breve riunione per sapere come sarebbero entrate queste immagini, queste opportunità nel loro curriculum. Penso di fare ancora di più, dato che è l'unica scuola del territorio, penso di fare di più, che mireremo a fare un allestimento particolare in tutti e tre plessi, ottimizzando ancora il risultato che adesso già è elevato e vorrei invitare verso fine anno scolastico, dove i tempi ci consentiranno di avere tutto aperto e tutto arreggiato, i docenti delle scuole secondarie, sia di primo grado che di secondo grado, sia del pesavese che del viminese. Questa è un'operazione che vuole diffondere il senso del bello e portare questo gusto artistico anche a contatto dei bambini. L'operazione non è un'operazione con altri scopi, scopi politici e religiosi, ma solamente un'operazione per la diffusione dell'arte e abituare anche i giovani a vedere le cose sotto un altro punto di vista, sotto altre inquadrature e anche a vedere cosa succede nel mondo per un discorso di pace anche nel mondo. Ci tengo a sottolineare niente di politico, niente di religioso, ma solamente diffusione dell'arte.